La Cooperativa Sociale Alice, in collaborazione con il Museo Civico Craveri, presenta un esperimento sulla germinazione dei semi. Per germinazione si intende quel processo in cui il seme prende vita per generare una nuova pianta. Vediamo che cosa ci serve per fare il nostro esperimento. Quattro vasetti trasparenti, un po' di terriccio, un po' di cotone, della carta stagnola, l'acqua e dei semi. Io ho utilizzato dei semi di rucola, ma potete utilizzare qualsiasi seme abbiate in casa. L'esperimento consiste nel provare a far germogliare i semi in quattro diverse condizioni. Vediamo quali. Ho iniziato il mio esperimento il giorno 7 aprile 2020. Ho avvolto uno di questi barattoli in un foglio di carta stagnola per fare in modo che la luce non entrasse all'interno. Sul fondo di tre vasetti ho messo un po' di terra, anche nel vasetto avvolto nella carta stagnola. Sul fondo del quarto vasetto, invece, ho messo un po' di cotone. In tutti e quattro i vasetti ho messo un po' di semi e poi li ho ricoperti con un po' di terra oppure con il cotone. Ho innaffiato poi tre vasetti su quattro, come vedete nell'immagine. In questo modo, i semi sono stati seminati in quattro diverse condizioni. Infatti, nel primo barattolo i semi sono stati seminati all'interno della terra, sono stati innaffiati, ma non ricevono la luce perché il barattolo è coperto dalla carta stagnola. Nel secondo caso, sono presenti tutti e tre gli elementi. Infatti, il seme è seminato all'interno del terreno, è stato innaffiato e riceve la luce del sole. Nel terzo barattolo, invece, manca il terreno. Infatti, i semi sono stati seminati nel cotone, sono stati innaffiati e ricevono la luce del sole. Nel quarto barattolo, invece, i semi sono stati seminati nella terra, ricevono la luce del sole, ma non sono stati innaffiati. Ed ora non ci resta che andare a vedere quello che è successo nei giorni successivi. Allora, vediamo cos'è successo cinque giorni dopo. Siamo al 12 aprile. Nel barattolo in cui è presente la terra, viene innaffiato ma non riceve la luce, vediamo che qualche germoglio comincia a spuntare e li ho indicati con le frecce rosse. Nel barattolo in cui è presente la terra, l'acqua ed anche la luce, vediamo che ci sono già alcuni germogli. Anche nel barattolo in cui non è presente la terra, ma solo acqua e luce, i semi hanno iniziato a germogliare nel cotone. Mentre invece, nel barattolo in cui è presente soltanto la terra, riceve la luce ma non viene innaffiato, non è successo nulla. È esattamente com'era il 7 aprile, cinque giorni prima. Ora, vediamo cos'è successo dieci giorni dopo. Nel barattolo in cui è presente la terra e i semi vengono innaffiati ma non ricevono la luce, si sono sviluppati dei germogli con dei fusticini molto lunghi e delle foglie gialle. Nel barattolo in cui è presente la terra, viene innaffiato e riceve la luce, si sono sviluppati alcuni germogli con il fusticino non troppo lungo e le foglie verdi. Nel barattolo in cui non è presente la terra, ma soltanto l'acqua e la luce, si sono sviluppati molti germogli, più che negli altri barattoli. E infine, nell'ultimo barattolo in cui è presente la terra e riceve la luce ma non è mai stato innaffiato, non si è sviluppato nulla, è rimasto esattamente com'era dieci giorni fa. Beh, adesso non ci resta che capire il perché abbiamo ottenuto questi risultati. Dobbiamo innanzitutto capire com'è fatto un seme. All'esterno del seme c'è un tegumento, che è un involucro protettivo. All'interno troviamo l'embrione, che è come una piantina in miniatura, formata da una piccola radichetta e da due foglioline. Sempre all'interno del seme ci sono poi le riserve nutritive, ovvero quelle sostanze sufficienti a far sì che il seme inizi a germogliare e la plantula emetta le prime radici. Solo dopo il nutrimento verrà preso dal terreno. Il seme quindi, per poter germogliare, ha bisogno di... Acqua L'acqua penetra all'interno, fa gonfiare e rompe il tegumento, permettendo la fuoriuscita della radichetta e delle foglioline. Ha poi bisogno di... Ossigeno, che permette al germoglio di respirare. E poi ancora di... Luce Ed è la temperatura giusta, al di sotto della quale il seme non germina. Il terreno, quindi, entra in gioco dopo la germinazione, quando il seme ha esaurito le sue sostanze di riserva. Ecco perché nel cotone i semi sono germogliati così velocemente. Avevano a disposizione tutto ciò che serve, l'acqua, l'ossigeno, la luce e la giusta temperatura. E in più, il cotone è più soffice della terra e quindi il germoglio può fuoriuscire con più facilità. Abbiamo visto che i semi tenuti al buio hanno sviluppato dei fusticini molto lunghi e delle foglioline gialle e non verdi. Cerchiamo di capire il perché. I fusticini molto lunghi perché il germoglio va alla ricerca della luce e quindi si allunga, si allunga nella speranza di poterla trovare. Invece, le foglie sono gialle perché non contengono la clorofilla, quella sostanza che dà alle foglie il colore verde. La pianta, grazie alla clorofilla e alla luce, può svolgere la fotosintesi, che è quel processo attraverso cui le piante si autoproducono il nutrimento. Se quindi continuiamo a tenere questi germogli al buio, saranno destinati a morire. E adesso, bimbi, sapete cosa ho fatto? Guardate un po', ho spostato i germogli in un contenitore più grande, dove tutti avranno a disposizione terra, luce e acqua, e così potranno continuare a crescere. E a breve raccoglierò la mia rucola. Ed ora, bimbi, tocca a voi! Se vi è piaciuto l'esperimento, provate a ripetere la casa con i semi che avete. E ricordate che, piantando un seme, si genera una nuova vita. E questo è un modo bellissimo per continuare a celebrare la giornata della Terra. Buon lavoro! Buon lavoro!